E' gratificante per la città, educativamente importante e dà un modo diciamo abbastanza semplice di vivere in periodi nei quali c'è a volte l'esagerazione, il Natale è portato sempre a scompensi, facendo emergere dislivelli, disequaglianze e questo invece è un modo in cui i ragazzi possono diciamo in maniera pedagogica usufruire di un momento che quello si sta assieme, si partecipa e è un'iniziativa che come questa è brillante e bisogna dare diciamo merito all'Asia e alle scuole per averla utilizzata e per portarla avanti. Ha parlato del teatro comunale e ha invitato i dirigenti a portare insomma i giovani in teatro. Deve essere utilizzato anche dai ragazzi perché il teatro è la casa della comunità beneventana, l'abbiamo messa in ristrutturazione, è venuta una bella ristrutturazione, tante cose sono fatte, lo sto chiudendo anche con Maurizio De Giovanni per un'opera che ha fatto lui a Napoli e che porterà qua, dipende soltanto da noi se prima di Natale o dopo Natale, insomma quindi devo dire c'è un bel programma che è stato votato ieri dalla Giunta, ha approvato la Giunta e mi pare che sia una cosa che trovi riscontro della città e della comunità di Benevento.